In Italia non potevo lavorare perché per la mia posizione ero troppo giovane ed ero donna. A Londra invece c'è più meritocrazia, nel senso chiunque tu sia se fai il tuo lavoro a loro sta bene. Mi fa rabbia perché a me piace l'Italia. Io è la prima volta che lavoro in Italia, quindi quello che mi fa paura è il fatto che pur di avere un lavoro, l'italiano debba comunque sopportare delle cose che magari all'estero non dovrebbe sopportare. L'Italia è il paese dove ho fatto le cose più importanti nella mia vita. Quando sono venuto qua ho avuto la difficoltà di trovare lavoro. Stare senza lavoro è una cosa brutta, ti fa sentire insicuro. Stare senza lavoro è una cosa brutta, ti fa sentire insicuro.